Ciao a tutti, sono Andrew Mass, è il mio primo video su YouTube, siamo venuti con mio padre con il Meta Detector Garrett 150, siamo a Focevarano, in Puglia, nel Gargano. Vediamo di trovare qualcosa, abbiamo già trovato, un po' che via e niente di che però un po' che via un po' che via un po' che via Grazie a tutti. 10 centesimi e sono 20 centesimi e sono 10 centesimi, 10 più 10 è 20. 10 centesimi e sono 10 centesimi e sono 10 centesimi. 10 centesimi e sono 10 centesimi e sono 10 centesimi. Allora l'andata abbiamo trovato 30 centesimi solo, abbiamo fatto un paio di metri, adesso vediamo al ritorno se troviamo qualcosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Vediamo se c'è qualche altra moneta qui. Vediamo se c'è qualche altra moneta qui. 2 euro. 2 euro. 2 euro. Siamo arrivati a 3 euro e 50. Hai visto? 2 euro. Grazie. Grazie a tutti. Qua c'è qualche altra. Qua c'è qualche altra. Qua c'è qualche altra. Vedremo. Perché qua va una buita a spiatti. O no? Non c'è qualche altra. No. Non c'è qualche altra. No. No. C'è qualche altra. Sì Non è una cosa piccola E tu ne hai? Una schifezza Quante? 10 centesimi Siamo arrivati a 1,40 euro Siamo a Simrink Questa è la tua situazione Questa è un'estima Questa è stata un'estima In questa sanità Volevo per dirlo Siamo noi Altracare La mia cassa Inofensibile Questa è stata un'estima Insofensibile Che c'è anche un'estima Sì, è vero. c'è sempre il bidone vicino il mio padre è scuso il ferro e ha impostato solo gli altri metalli questa è la macchia che ha fatto questa è la zappetta che si è fatta lui fai da te che ha fatto mio padre è buc 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 siamo arrivati quattro euro qualche altro euro quant'è? cinquanta quattro euro quattro euro almeno sei euro quattro euro non l'avete trovato? ah hai vedi perchè hai dato il video? si su youtube ah è una ripresa per mettere su youtube? si e come scrivi? no questa è la prima volta è il primo video ma guarda che questo qua mi suona sempre è il primo video ma ci sono i tappi i tappi della bottiglia ti fa suonare è vero? hai voglia anche i tappi della bottiglia eh si è metallo? è alluminio metallo scusa il metallo lo senti? eh non hai la palettina ah si ma che pazienza si 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 e la ue 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 guarda mi sa che la giornata non so se esce no 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 quattro euro ma quanti sono le volte dietro? l'ho taggiotto? no non c'è ah ma sei lì qua no la vuole schitella ah sei lì schitella ah si ho qualche euro ho qualche euro acqua e ragazzi acqua ci abbiamo anche aiutato andrea ahahah 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 c'è un anno? guarda ecco qua ah cos'è? 20 centesimi? 20 centesimi 20 centesimi 20 centesimi 4 euro e 30 se ma vuoi ah beh dai che bucciate andiamo a mangiare le terrazze dai che andiamo a mangiare le terrazze ahahah l'abbiamo ritrovato una ragazzina ha perso l'orecchino l'abbiamo ritrovato vediamo che c'è? qualche moneta hai già le macchine? dovrei stare qua beh ma tu ti è nato quando? ti è nato quando? ti è nato? ma ci può essere qualcosa di gli aghi delle siringhe? anche sì sì una volta una volta adesso non c'è più che si curano eh non ho trovato adesso li hai trovati? adesso no però è gli altri anni ma quest'anno io non ho visto nessuno dove? si è riuscata eh dove? ormai sniffa no? sì in catà l'ospedale spazio in catà ma questo è una piazza che c'è? si stanno adigino all'armo per se non va bene ecco vedi? ma lì ti dai farsi allarme però qualcosa ci sarà ma qua vado a rammare qua che c'è in destra qua dove è che si? qua un euro prima avevo da 5 euro un euro un euro vieni qua sì sì, arrivi via poi era tutti qui allora i bambini avevo Serena pure che era una pasticciona l'amore, l'amore, l'amore no è bello guardi nemmeno andiamo niente eccolo lì un euro oh mi paghi il caffè adesso qua si trova sui 5 euro mi paghi il caffè vai avanti, continua siamo arrivati eh 5 euro 6 euro qui ritrovate senz'altro perché con tutti i bambini qua c'era la nuca io avevo quattro nipoti guarda che quando ce n'è uno ce ne possono essere due o tre magari non voleva in tasca io avevo quattro nipoti grazie con tutti quelli che trovi può fare il mercato libero il video si conclude qui abbiamo finito adesso ce ne andiamo tra un po' vi faremo vedere le monete che abbiamo trovato tutto sul tavolo grazie della visione arrivederci alla prossima grazie